Ciao a tutti, nuovo video, questa è la seconda parte di tre del Bookshelf Tour, diciamo, di quest'anno, del 2023. Nel video di oggi vi mostrerò la parte centrale della libreria, della grande libreria alle mie spalle. Non perdiamo altro tempo, se avete già visto il video precedente sapete già tutto e entriamo nella mia libreria. Eccoci qua con la parte centrale della mia libreria, questa è la visione di insieme dei sette scaffali. Diciamo che nella parte centrale ci sono prevalentemente case editrici indipendenti, tolta forse soltanto Rizzoli, credo sia l'unica noi indipendente. E andiamo a vedere la scaffale per scaffale. Primo scaffale in alto che inizia con gli unici due libri di Nero Edizioni, che possiedo, ovvero Control C, Control V di Kenneth Goldsmith, un bel saggio che riflette sul concetto di scrittura creativa e di scrittura non creativa, e questo saggio su Ballard, Ballardismo applicato di Simon Sellars, che è tradotto da Luciano Funetta, e che mi è piaciuto molto nonostante io di Ballard non abbia mai letto niente, ma l'ho letto semplicemente perché è tradotto da Funetta. Poi iniziano qui i miei saggiatore. Questa è l'antologia contemporaneo occidentale curata da Andrea Gentile, devo dire sorprendentemente interessante, che comprende un po' di autori sia del catalogo saggiatore che non. Solenoide di Mircea Cartarescu, per molti il miglior cartarescu io come opera, come grande opera preferisco abbacinante di quest'autore, L'anno del pensiero omologico di Joan Didion e ovviamente Mostro di John Gregory Dunn, che era il marito di Joan Didion, mi piace che questi due libri siano vicini, si parlano molto questi due libri tra di loro, Bim Bumbank e Tamina di Claudia Grande, un buon esordio italiano, uno dei pochi di quest'anno, Colore Puro di Sheila Etty, Teatro Grottesco di Thomas Ligotti e il mio lavorone è ancora finito, sempre di Ligotti, io Ligotti non è un autore che apprezzo particolarmente, ma ho preferito questo che è il più odiato tra i fan di Ligotti rispetto a Teatro Grottesco, Appunti da un'apocalisse di Marco Connell, Ogni creatura è un'isola di Andrea De Spirt, Nel nome del diavolo di Lorenzo Alunni, poi due Vitold Gombrowicz, Pornografia e Transatlantico, due libri che comunque non consiglio come primo approccio a questo autore, Lacrime bianche di Ari Canzro, molto bello e molto sottovalutato lui come autore, Lorenzo Monfregola con Gli Annegati, Le Galanti di Filippo Tuena, libro veramente ambiziosissimo e molto molto raffinato, Richard Yates di Tao Lin, scrittore pazzo, veramente pazzo e romanzo molto pazzo, poi due giornate a Lethem, Non mi ami ancora e Chronic City, Lethem è un autore che trovate spesso nella mia libreria, sto cercando di recuperare tutto di questo autore, poi una famiglia americana di Joyce Carol Holtz, autrice che non mi fa impazzire se devo essere sincero, qui poi ho i libri di Terra Rossa edizioni, Alessandro Cinquegrani con Pensa al Risveglio, La Meravigliosa Lampada di Paolo Lunare di Cristò, Temevo dicessi l'amore di Mattia Grigolo, Binari di Monica Pezzella e poi tutto Ezio Sinigaglia, il Pantarei, Limitazione del Vero, i Fifty Fifty diviso in due volumi e Sillabario all'incontrario, il migliore in assoluto e il modo migliore per iniziare a conoscere Ezio Sinigaglia è il Pantarei che consiglio assolutamente perché Sinigaglia è un autore italiano che va letto e dopodiché Ragazza senza prefazione di Luca Tosi, l'esordio di Luca Tosi molto molto interessante e che fa ben sperare per il futuro di questo, per il proseguo della sua carriera. Dopodiché qui nell'angolo in doppia fila abbiamo il primo della saga di Blackwater, cioè in realtà è un libro solo diviso in sei volumi, cinque volumi, quanti sono? E ho anche gli altri, devo ancora proseguirla, il primo vi dirò non è che mi ha fatto proprio impazzire ma essendo praticamente un libro diviso in più parti va letto tutto per giudicarlo. Dopodiché collana Incursioni di Italo Svevucara, partita molto bene, ultimamente si è un po' arenata mi sembra, comunque sta sfornando meno titoli, anche tra quelli che avevano annunciato, quindi insomma ci dovevano essere stati dei piccoli problemi. Comunque Murene di Emanuele Antonucci, il migliore della collana è senza dubbio Scavare di Giovanni Bitetto, anche Lingua Madre di Maddalena Fingerlet, molto bello, mi è piaciuto meno Le isole di Norman di Veronica Galletta. Andando avanti qui abbiamo Bit, quindi i Tascabili sia di Neri Pozza che di Minimum Fax, e infatti in questo caso è un Tascabili di Minimum Fax, Jay The Scene d'Inverno di Anne Betty, un classico della letteratura postmoderna americana, poi Joshua Ferris, autore che io amo molto, con il suo esordio, poi siamo arrivati alla fine, non conosco il tuo nome e svegliamoci pure ma ha un'ora decente, i suoi primi tre romanzi, tutti e tre molto belli ma l'esordio non si batte, dopodiché i Melrose raccolti, tranne l'ultimo volume che ho poi nella versione Neri Pozza, di Edward St. Tobin, la saga familiare per eccellenza, e qui abbiamo Due vite di Emanuele Trevi, uno dei ultimi meritevoli vincitori del premio strega. Qui dietro abbiamo Neri Pozza, cosa c'è? Invito a cena di Joshua Ferris, una raccolta di racconti, poi Tieni ferma la tua corona di Yannick Enel, bellissimo romanzo francese, Un uomo di passaggio di Ben Lerner, l'esordio di Lerner, Imperium di Christian Cracht, Il sogno della nocilla di Augustin Fernandez Maio, questo è un libro abbastanza raro che non si trova in giro, Lux di Eleonora Marangoni, Il fruscio dell'erba selvaggia di Giuseppe Monforte, Il simpatizzante di Viet Thanh Nguyen, di cui devo ancora leggere il secondo ma che ho, Un dolore così dolce di David Nichols, e poi un po' di Edward St. Tobin, Lieto Fine che è l'ultimo dei Melrose, Senza parole, La foglia di Dunbar e Doppio cieco. In ultimo qui l'esordio di Carmen Verde, Una minima infelicità, altro esordio molto meritevole di questo 2023. Dopodiché scendiamo e qui ho raccolto in un unico scaffale tutti i minimum facts che possiedo, in doppia fila ovviamente perché è una casa editrice che pubblicando tanta narrativa americana pubblica molti dei miei autori preferiti. Partiamo innanzitutto da una collana che non fanno più, i mini minimum, che era la collana tascabile di minimum facts. Abbiamo due libri di Donald Duntrim, Votate Robinson per un mondo migliore e Il verificazionista, una bella raccolta ai racconti di Charles D'Ambrosio, Il museo dei pesci morti, e di Matthew Clem, questioni delicate che ho affrontato dall'analista. Poi la collana forse più bella di minimum facts che è la minimum classics. Qui abbiamo due volumi di John Barth, la prima è una raccolta di racconti, un'antologia, diciamo così, racconti scelti, la vita è un'altra storia importante perché qua dentro c'è Lost in Funhouse, uno dei racconti più importanti di John Barth, e chi si ricollega a un'opera di David Foster Wallace che amo molto, l'opera Galleggiante, che è uno dei migliori romanzi americani del Novecento, poi Donald Bartlemy, grande scrittore di racconti postmoderno, Ritorno a Dottor Caligari, Atti Naturali e Pratiche Innominabili e La Mia Vita in Città, Arance e Rosso Sangue di John Hawks, che questo fan fact ho in due copie, questa che è l'edizione minimum facts, ma anche l'edizione è in Audi, comprato per errore perché ha un titolo diverso, poi il commesso di Bernard Malamud e Dio Mio Grazie, sempre di Malamud, Malcolm e il nipote di James Poor, di autore sottovalutatissimo, Signorina a cuori infranti di Nathaniel West, e l'unico Richard Yates che ho e che ho letto, Disturbo della quiete pubblica, Richard Yates non è un autore che mi fa impazzire. Continuiamo sempre con la doppia fila, un po' di libri della colana filigrana, che sono questi saggi sull'editoria o sulla scrittura, il primo è un saggio di John Barth, L'algebra e Il Fuoco, il secondo è un bellissimo saggio sull'editoria americana, di Giulio D'Antona, non è un mestiere per scrittori, qui abbiamo poi il famoso Americana di Luca Briasco, molto molto comodo e interessante per avere dei consigli di lettura sulla narrativa americana, questo invece di Gabriele Sabatini, numeri uno, è un libro molto carino, su otto libri che hanno inaugurato, otto collane editoriali del novecento italiano, qui cade tutto, dopodiché La scrittura non si segna di Vanni Santoni, un saggio sulla scrittura ovviamente, qui altri Minimum Classics nelle nuove edizioni, nelle nuove veste grafiche, sono L'esordio di Arpino, Sei stato felice Giovanni, bellissimo romanzo, La fine della strada di John Barth, che completa il dittico con l'opera galleggiante, Biancaneve di Donald Barth, stupendo, e Gli inquinini di Bernard Malamud e la figlia dell'ottimista di Eudora Welty. Da qui in poi iniziano invece i Minion Facts della collana sotterranei. E quindi, un'antologia sui migliori racconti pubblicati da Max Sweeney's, rivista letterale di Dave Eggers, Fine Impero di Giuseppe Genna, Jack e la fine di Alice di A.M. Holmes, L'esordio di Nicola Gioia, Il dolore secondo Matteo di Veronica Raimo. Poi, qui in fondo, John Henry Festival di Colson Whitehead, uno dei più bei romanzi di Whitehead, Wallace, verso l'accidente l'impero dirige il suo corso, il racconto lungo, diciamo così, la novella che si ricollega a quel racconto di John Barth, di cui vi dicevo prima, La ragazza ai capelli strani, sempre di Wallace, La donna che si tagliò la gamba al Maidstone Club di Julia Slevin. Poi, Dieci dicembre di George Saunders, Antartide di Laura Pugno, Lo spazio sfinito di Tommaso Pincio, Mosca più balena di Valeria Parrella, poi c'è l'esordio di Francesco Pacifico, Il caso Vittorio, due romanzi di Rick Moody, anzi, un romanzo e una raccolta di racconti, Il ventesimo anno di Marco Mancassola, Amnesia Moon di Jonathan Lethem, Sonny Liston era mio amico di Tom Jones, non mi ricordavo il nome, Guardami di Jennifer Egan, che comunque dopo il tempo un bastardo non ha più scritto, anche prima in realtà, non ha scritto romanzi all'altezza di quel capolavoro, Orso contro squalo di Chris Backelder, poi due antologie miste, altra antologia, Burned Children of America, molto cult, diciamo così, poi, I due romanzi di Marta Azzurra Puntaroni, Grande Era Onirica e Noi Non Abbiamo Colpa, Nicotina di Nel Zink, sottovalutatissimo, tutto Volman, Storia dell'arcobaleno, tutto il Volman che non avevo in altre edizioni, Storia dell'arcobaleno, Storia della Farfalla, Camicia di Ghiaccio, I Fucili, I Poveri, Afghanistan Picture Show, dopodiché, Il Tempo Materiale di Giorgio Vasta, I due romanzi di Orso Tosco, Aspettando i Naufraghi e London Voodoo, molto meglio, Aspettando i Naufraghi, la raccolta di racconti cult di Giordano Tedol, di Io Odio John Updike, poi, Una Vita Non Mia, di Olivia Sudich, questo non un gran romanzo, senza dubbio, Kamikaze d'Occidente, di Tiziano Scarpa, che è una riedizione, Teodoro e Dorotì di Alexandre Postel, L'amore per nessuno di Fabrizio Patriarca, bellissimo, Trilobiti di Brice DJ Pancake, unica opera di quest'autore che poi purtroppo è morto, Scarti di Jonathan Miles, stupendo, romanzo americano, stupendo, Vivi e Morti e Tramontare di Andrea Gentile, Sangue di Giuda di Graziano Gala, Il Tempo è un Bastardo di Jennifer Egan, per l'appunto, Cleopatra va in prigione di Claudio Durastanti, Le tracce fantasma di Nicola Cosentino, e Icarus di Matteo Cavezzali, l'esordio di Cavezzali, libro molto bello sulla figura di Raul Gardini. Scendiamo al terzo scaffale, qui abbiamo Sur e Big Sur, diciamo vicino a Minimum Fax, perché comunque parliamo di Marco Cassini e Martina Testa, quindi sempre orbita Minimum Fax. Qui abbiamo Sur, che ovviamente, essendo una casa editrice che pubblica solo letteratura sudamericana, non è una casa editrice di cui ho molti volumi, non amando io la letteratura sudamericana, o comunque Ornamento di Juan Cardenas, due libri di Juan Carlos Onetti, nelle nuove edizioni con le postfazioni di scrittori italiani importanti, La vita breve e Il cantiere, Respirazione artificiale di Riccardo Piglia, che è uno dei pochi romanzi sudamericani che mi è piaciuto, Il bacio della donna ragno di Manuel Puig, il pessimo Kentucky di Samantha Schweblin, che è proprio una schifezza, e poi inizia invece Big Sur, Friday Black di Nana Quane, vabbè, lui, raccolta dei racconti carina, ma niente di più, L'infortunio di Chris Packelder, assolutamente da leggere, Esercizi di fiducia di Susan Choi, un'occasione sprecata, poi Catherine Lacey, tutto da leggere di Catherine Lacey, nessuno scompaio davvero, le risposte a me puoi dirlo, Le più fortunate di Julian Pacico, altre raccolti racconti che poteva fare di più, oreo di Frank Ross carino, un grande classico della letteratura americana, Ultima fermata a Brooklyn di Uber Selby Jr., due libri della tetralogia delle stagioni di Ali Smith, autunno e inverno, un'arcolta dei saggi di Sadie Smith perdibile, e poi la ferrovia sosterranea di Colson Whitehead, che assolutamente merita di essere letto, dopodiché abbiamo codice edizioni, nella sua collana di narrativa americana, questa è la nuova veste grafica, questa è la vecchia veste grafica, decisamente meglio le copertine di Stefano Bonazzi, e qui abbiamo Ottone di Xenet Aliu, Innocua come te di Rowan Isao Buchanan, Joshua Cohen, il libro dei numeri, capolavoro, quattro nuovi messaggi, raccolti racconti, Netanyahu con cui ha vinto il Pulitzer, Anna versus l'albero di Leland della Durantaglie, Carmen Maria Machado, vabbè, imprescindibile, il suo corpo e altre feste, e nella casa dei tuoi sogni, Gli amanti poliglotti di Lina Wolf, sempre di Cohen, un'altra occupazione, e poi due libri di Loren Groff, perché Loren Groff prima di arrivare a Bonpiani, veniva pubblicata la codice, Arcadia, e la molto bella raccolta di racconti, dedicati ai uccelli commestibili, qui nell'angolo abbiamo Safarà, Safarà, casa di Tichel che mi piace molto, qui abbiamo a metà di Jasmine B. Frelin, poi questa raccolta di racconti molto interessante, Il buio a luce accese di David Hayden, Gerard Mornan, che è uno dei migliori autori a catalogo Safarà, Le pianure, Tamariskrow e Una vita tra le nuvole, poi questa raccolta di racconti spagnola, questo autore spagnolo postmoderno, Corteo di ombre, bellissimo, 1982 Janine di Alasdair Gray, L'anarch di Alasdair Gray, imprescindibile di Safarà, e poi il primo della trilogia del Voer di Brian Ketling, il secondo devo ancora leggerlo, ma ce l'ho. Proseguiamo, quarto scaffale, lo scaffale a delfi, e qua, metà scaffale a delfi, metà bollati boringhieri, utopia, nottetempo, e un unico e solitario, Rusconi, questa edizione della Rusconi, del Natale del 1833 di Mario Pomilio, con cui ha vinto il premio strega, allora partirei proprio da Nottetempo, qui abbiamo veste grafica vecchia, diciamo così, o intermedia, che sono i due saggi, uno di Gianluvici Simonetti, Caccialo Strega, e l'altro di Marco Marvesio, raccontare la fine del mondo, e qua abbiamo la nuova veste grafica di Nottetempo, Francesco Pacifico, solo storie di sesso, Alessio Mosca, chi romantica medica, e Alessandro Ceccherini, il mostro, poi abbiamo anche qui in alto, perché non ci stavano, Cos'hai nel sangue di Gaia Giovagnoli, e il bellissimo, il discorso di Fabrice Carò. Dopodiché, Utopia, Utopia, editore illuminato, e che ha un catalogo, veramente di alto, alto livello, partiamo da Hassan Blasim, autore iracheno stupendo, alla 99, e il Cristio iracheno, poi, Bontempelli, un classico della letteratura italiana, Il figlio di due madri, poi, Eva dalle sue rovine di Ananda Devi, La fiaba nucleare dell'uomo bambino di Amid Ismailov, Trilogia della guerra di Agustin Fernandez Maio, assolutamente interessante come libro, Chibogo è salito in cielo di Scolastic Mucasanga, no, so pronunciare ragazzi, mi spiace, Libro bianco di Piero Scanziani, stupendo, La saga di Vigdis di Sigrid Unset, e Dialoghi in cielo di Khan Xue, Utopia, ottimo catalogo, però, pronuncia di nomi, un po' complicata. Volati i bueringhieri, invece, L'incanto del pesce luna di Adezeno, Due Tarabbia, Il continente bianco e Madrigale senza suono con cui ha vinto il Campiello, Miglior romanzo italiano degli ultimi dieci anni, La mischia di Valentina Maini, va letto, Randaggi di Marco Amerighi, e poi, l'edizione, Volati i bueringhieri, del dilemma del prigioniero di Richard Powers, da qui in poi iniziano gli Adelphi. Mancherà qualcosa perché è passata Lisa e qualcosa si è portata a casa lei, però, credo manchi, Yasmina Resa, e, qualcosa della Ortese, L'iguana di Anna Maria Ortese. Però abbiamo, Incontro col comunista di Morselli, e la pietra lunare di Landolfi, nella piccola biblioteca Adelphi, Osterlitz di Sebald, la versione di Barney di Rickler, Silla Bari di Parise, Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese, per l'appunto, Lolita e la difesa di Lugin di Nabokov, poi ancora Roma senza papà di Morselli, qua manca anche di Sipaz HG di Morselli, che credo abbia sempre Lisa, Centuria di Manganelli, La pelle e Caput di Malaparte, poi Daedalus di Joyce, Il Vaz degli Addie e l'ignoranza di Kundera, Fame di Amsun, Faulkner con Mentre Morivo e Luce d'Agosto, Limonov di Carrère, I Detecti Selvaggi di Bolagno, Il Soccumbente e Perturbamento di Bernard, e La Bella di Lodi di Arbasino. Qua dietro cosa abbiamo? I due libri di Fabio Bacca, ovviamente, Benevolenza Cosmica e Nova, L'Origine e a Colpidaccia di Thomas Bernard, Amuleto, Lo Spirito della Fantascienza di Roberto Bolagno, e poi Carrère, Poi Carrère, Io sono vivo e siete morti, La biografia di Dick, L'Avversario, un romanzo russo, Il Regno, Yoga e Il Pessimo V13, Guerra di Céline, Inviata speciale di Jeanne Schneau, autore sottovalutato, soprattutto nella fiction, perché è molto letto per la non fiction, ma è un grande autore di fiction, Edgardo Franzosini con Raymond Isidor e la sua cattedrale, Enciclopedia dei morti di Danilo Kisch, Ilaro tragedia di Giorgio Manganelli, pazzesco, Silvia di Leonard Michaels, bellissimo, Poi Morselli ancora, Contropassato prossimo, Un dramma borghese che è il mio preferito, e Divertimento 1889, Isperazione di Nabokov, Il ragazzo morto e le comete di Parise, l'esordio di Parise, il famosissimo esordio di Parise, Joshua Allora e Oggi, sempre di Rickler, Poi, Tutto quello che è un uomo di David Soloi, La valle oscura di Anna Wiener, Tony e Susan di Wright, Lezione di letteratura di Nabokov e Essere una macchina di Mark O'Connell. Scendiamo al quinto scaffale, che è anche quello più in divenire, che è l'ex scaffale Rizzoli, che continua ad essere uno scaffale Rizzoli, ma se vedete, qui sotto abbiamo altri Rizzoli con dei bur, e quindi è ancora un po' tutto in divenire, perché? Perché quest'anno è l'anno del recupero della scala Rizzoli, illustrata da Mario D'Algrada, pubblicata tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, questa colana stupenda, di cui non ho recuperato solo questi libri quest'anno, questi sono quelli che ho letto, tra quelli che ho recuperato, perché, e qui facciamo una transizione velocissima, tra i libri da leggere ci sono tutti questi, che quando avrò letto dovranno finire esattamente qua. Quindi è ancora un po' tutto in divenire, per capire dove piazzarli, sono dei volumi stupendi, cartonati, con l'acetato, la sovracopertina inacetato trasparente. Comunque, partiamo, partiamo, ci sono due meravigliosi Giovanni Arpino, Il Buio e il Miele, Randaggio e l'eroe, c'è la Cosa Buffa di Berto, c'è Bevi l'Acqua, con questa specie di amore e il viaggio misterioso, c'è la Vita Algrada di Bianciardi, che ho in doppia edizione a questo punto, oltre all'Universale Economica Feltriale, le ho anche la prima edizione Rizzoli. Poi ho Castellaneta, Gli Incantesimi, La Dolce Compagna, La Paloma, Flaiano, Il Gioco e il Massacro, Le Ombre Bianche, Fornari, Angelo a Capofitto, Franciosa, La Rischiata, William Golding, sì, proprio quel William Golding con La Piramide, Lempio Enea di Giuliano Gramigna, Coto di Kawabata, A Casa Tuaridono di Mastronardi, Il Rogo di Powels, I Cieli della Sera di Prisco, Le Persone del Dramma di Saporta, di Mark Saporta, e Trittico di Praga di Urzidrill. Poi, A Caso di Landolfi, bellissima, raccolta i racconti con cui, se non sbaglio, ha vinto il premio strega. Qui invece la nuova Scala Rizzoli, diciamo così, anzi, adesso è diversa la Scala Rizzoli. La Scala Rizzoli di qualche anno fa, cartonati giganteschi, veramente in formato quaderni. Scala Cattolica di Albinati, Sognando la Luna di Michael Chabon, Zona di Mattia Henard, L'Amore Bugiardo di J.D.A. Flynn, Il Nix di Nathan Hill, molto staudato come esordio americano, non ha più pubblicato niente, dovrebbe uscire il secondo romanzo quest'anno in America, Le Donne Amate di Francesco Pacifico, L'Arcobaleno della Gravità di Thomas Pynchon, vabbè, Il Contagio di Walter City, Ninna Nanna di Leila Slimani, Mio Assoluto Amore di Gabriel Talent, e poi Donna Tartt, Dio di Illusioni, Il Cardellino, e sotto abbiamo anche Il Piccolo Amico, e questa transizione mi porta a farvi vedere la seconda fila qui, di Burr, di Tascabili Burr. L'Arte di Vivere in Difesa di Chad Hartbatch, poi, Tre Michael Shevon, La raccolta di racconti lupi mannari americani, Wonder Boys e I Misteri di Pittsburgh, esordio strepitoso, Il Male Oscuro di Berto per l'appunto, e Un Audulterio di Edoardo Albinati. Saluto per terra per farvi vedere il penultimo scaffale della libreria. Quindi, dietro a I Tascabili Burr ci sono, in realtà, Alte Tascabili Burr, Le Fantastiche Aventure di Cavaliere in Clay di Michael Shebon, Due Tascabili Burr in questa veste grafica, La Bibbia di Petternadas e Creature nel Giardino di Lydia Davis, poi, I Compagni del Fuoco di Ernesto Aloia, e dopodiché, Desideri Deviati di Edoardo Albinati, che è il secondo di una sorta di trilogia con cuori fanatici, poi, Il Mare Tondo di Elvis Malay, Le Cose di Benny di Gianmarco Perale, Il Fuoco Invisibile di Daniele Rielli, La Natura e Innocente di Walter City, e Un Marito di Michele Baccari. Sempre Rizzoli, Contro l'impegno di Walter City, Confessione di una coppia scambista al figlio morente di Alessandro Gori, e Indecision di Benjamin Kankal. Dopodiché, qui al centro dello scaffale, abbiamo Ponta Le Grazie. Ponta Le Grazie, il premio concordi di qualche anno fa, Non stiamo tutti al mondo nello stesso modo, di Jean-Paul Dubois, I Tuoni di Tommaso Gianghi, La Vita Adulta di Andrea Inglese, La Casa Mangia le Parole di Leonardo Luccone, Ritratto di Giovane Donna con mostri di Paula Oluixark, Bruttino, Lo Stradone di Francesco Pecoraro è invece bellissimo, Giorni di Collera e di Annientamento di Francesco Permunian, e il molto bello stradario aggiornato di tutti i miei baci di Daniela Ranieri, Sogni e favole di Emanuele Trevi. Dopodiché qui che cosa abbiamo? Un po' di casino, diciamocelo chiaramente, un po' di casino. Qui dietro abbiamo tutto edizionivo, qui davanti in doppia fila abbiamo un po' di Polidoro, vecchia veste grafica, e quindi la memoria dell'uguale di Alfredo Zucchi, di quel fatto di Larry Tiscione, Flavio Ignezi con i punti in cui scavare e fai ciao, spostiamo Polidoro, poi abbiamo i due libri di Monica Ojeda, Mandibula e Nefando, non c'è paragone, c'è Mandibula molto bello, Nefando abbastanza terribile, questa bellissima edizione Tullio Pironti di Libra, uno dei bellissimi libri di Delillo, sottovalutatissimo, poco letto, pazzesco libro Libra, e dopodiché abbiamo due libri di Alter Ego, una di due di Daniel Sada e L'uomo visibile di Chuck Klosterman, e posso farvi vedere quindi edizioni Ego, qui in alto due piccolini, ultimo discorso la società prustiana di Barcellona di Matienar, e Kate Tempest con Brand New Ancient, partiamo da qua, La Parete di Marlene Haushofer, un classico, Squale al Tempo dei Salvatori di Kawaii Strong Washburn, il premio Goncourt Eric Villar con L'Ordine del Giorno, sempre Kate Tempest con All Your Own, il bellissimo Goncourt di Mohamed Mbougarsar, la più recondita memoria degli uomini, un po' di Sasha Naspini, la voce di Robert Wright, Ossigeno a Casa del Mar con Tempo, i Cariolanti, tra questi quattro vi consiglio senza dubbio Ossigeno e i Cariolanti, poi, Sieni e Uova di Mieko Kawakami, la Traversata di Philippe Lanchon, la Promessa di Damon Galgot, un bel po' di Matienar, Zona, in doppia copia, Sì, Rizzoli e Edizioni EO, poi ho Il Banchetto Annuale della Confraternita dei Becchini, Parlami di Battaglie di Re di Elefanti e La Perfezione del Tiro, Il Bruttino L'Antimondo di Nathan De Verre, tutti gli uomini aspirano per natura al sapere di Nina Burawi e Suisa di Benedict Belpoix. Siamo arrivati all'ultimo scaffale, anche qui il delirio è abbastanza preponderante, abbiamo in fondo qui nell'angolino più oscuro ISBN Edizioni, che ha tutti i formati diversi, che non si possono vedere uno con l'altro, quindi sono qui in fondo, Il Nemico di Emanuele Tonon, Di Odio al Giappone di Douglas Coupland, Uomini e Cani di Omar di Monopoli, Re di Player One di Ernest Cline e Il Bellissimo La Vita Intensa di Massimo Bontempelli. Dopodiché abbiamo Due Vaniss Antoni pubblicati alla terza, sono anche gli unici due libri di la terza che ho in libreria e sono La Stanza Profonda e Gli Interessi in Comune, poi Pausa Caffè di Giorgio Falco pubblicato da Sironi, Simone Lisi, compadre occidentale pubblicato da FQ, Moresco, Canto degli Alberi pubblicato da Abocca e L'Addio pubblicato da Giunti, il resto di Moresco l'abbiamo visto l'altra volta, pubblicato da Sam e poi c'è il Moresco pubblicato da Mondadori, d'altra parte questa divisione, i pregi e i difetti della divisione per casa editrice. Neoedizioni, XXI secolo di Paolo Zardi, Cometa di Gregorio Maggini, La Carne di Cristo e Il Confine di Silvia Costu, La Nuova Frontiera, Questi capelli di Pereira de Almeida e l'archivio dei Bambini Perduti di Valeria Luiselli e dopo di che abbiamo l'Orma Editore. Trappole e Imboscati di Sasha Steinzic, su cui ho qualche dubbio e problema con la traduzione, perché di Steinzic ho amato Origini, ma questo invece non mi è piaciuto. Il Sarto Volante di Etienne Kern, La Chiara Fontana di David Bosch e poi Angeli Minhoi di Volodin e due libri di René Barjavel, Sfacelo e Il Mago M, sicuramente il più bello tra i due. Qui abbiamo poi H Edizioni con Matteo Meschiari, L'Ora del Mondo, Alberto Albertini, La Classe Avversa e Alcide Pierantozzi, Uno Indiviso. E dopo di che abbiamo un po' di guanda. Cosa abbiamo di guanda? Robert Coover, un campione in tutte le arti. Questo è abbastanza difficile da trovare in giro. Poi, Nello Splendore dei Gigli di John Updike. Poi, Il Manuale del Debuttante Russo di Gary Steingard. L'ultimo premio a Goncourt, Vivi Veloce di Brigitte Giraud, Selva Oscura di Nicole Krauss, Eccomi di Jonathan Safran Foer e questa molto bella antologia di racconti italiani del Novecento scelti da Giun Palairi. Liberaria, la parte inventata di Rodrigo Fresan e chiudiamo questo scaffale, questa parte di libreria con 66 and Second. Il volontario di Salvatore Scibona, Volodin, un bel po' di Volodin. L'ultimo, Le Ragazze Monroe, poi Black Village pubblicato sotto pseudonimo, poi Streghe Fraterne e Sogni di Mevlido, che è il mio Volodin preferito in assoluto. Dopodiché, Fabrizio Patriarca, Tokyo Transit, bellissimo, Esperimento americano di Benjamin Markowitz. Qua abbiamo Il Meraviglioso Viaggio di Octavio di Miguel Bonfoy, autore francese molto molto famoso, e Casa di Foglie di Mark Danielewski. Questi erano i libri contenuti nella parte centrale della mia libreria. Noi ci vediamo settimana prossima per la parte finale, la terza e ultima parte di questo Bookshelf Tour. Ciao! Ciao!